Autunno, si parte per il primo giro con la GoPro Hero 7 Black, ovviamente In bici sulle strade marchigiane in autunno Lungomare e Numana Ovviamente Andiamo quindi a fare questo primo giro con la GoPro Hero 7 Black In questi colori particolari, queste luci particolari Che ci regala l'autunno sulle strade marchigiane E in particolare quelle intorno a Numana, Siroolo, Riviera del Conero Le strade sono quelle che avete già visto nei video girati quest'estate Con la GoPro Hero 7 Black Ma, come potete da subito vedere La luce cade in modo completamente diverso in autunno Ed è come scoprire nuove strade Quindi, godiamoci anche questi colori autunnali Della Riviera del Conero E se ancora non l'hai fatto Iscriviti al canale Clicca su iscriviti E poi sulla campanella per ricevere le notifiche E poi Ragazzi, a me questo sole basso, questi colori caldi dell'Opino piacciono ben cazzati. Non so, a voi, ma a me veramente mi piacciono da morire. Go provare questo video! Ok, ora sappiamo che l'Aero 7 è sorta come l'Aero 7. Ok, ora sappiamo che l'Aero 7 è stata fatta. Ok, ora sappiamo che l'Aero 7 è stata fatta. Ok, ora sappiamo che l'Aero 7 è stata fatta. Ok, ora sappiamo che l'Aero 7 è stata fatta. E dopo aver incrociato quel bel gruppone di ciclisti, scatta il cambio di programma. Ovvero, si torna sul lungomare e ci si lancia all'inseguimento per cercare di inserirsi in quel bel gruppone di ciclisti. Il problema è che loro sono tanti, quindi rompono bene l'aria, mentre io sono da sole, lanciato all'inseguimento. Vediamo se riesco a raggiungere. Vediamo se riesco a raggiungere. Vediamo se riesco a raggiungere. Fai a raggiungere. Grazie a tutti. Eccoli lì, a un tiro di schioppo, l'abbiamo quasi ripresi, qual è il problema? Lui inizia la salita e io ho fuso le gambe. Ok. Diciamo che qui mi sono rassegnato. Ho deciso di lasciar perdere l'inseguimento, di lasciarli andare e di proseguire con più calma la salita verso l'umana. Ne approfitto per segnalarvi che da qualche video ho iniziato a mettere sotto nelle descrizioni i link un po' a tutte le mie attrezzature che uso sia per fare le riprese che per andare in bici, vari dispositivi e quant'altro, con anche il link per trovarli su Amazon. Quindi se vi può interessare qualcosa, qualche prodotto, qualcuna delle tecnologie che utilizzo, ma anche gli integratori che adopero per mantenermi in forma, trovate tutto sotto nelle descrizioni. Inoltre, utilizzando quei link, mi aiutate, come dire, a sostenere i costi di questa mia passione. Ora giriamo a destra e facciamoci con calma un passaggio dentro l'umana. Anche qui il sole basso dell'autunno ci regala una luce particolare e canta. Anche qui il sole basso dell'umana. Anche qui il sole basso dell'umana. Anche qui il sole basso dell'umana. Sì Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati Guarda altri video, ce ne sono di vari generi I video delle strade marchigiane in autunno continuano Ciao, alla prossima!